Si è partiti da una lettura non ideologica dei dati della medicina, più le esperienze professionali ed associative, da cui viene fuori che i temi principali sono i problemi dei bambini come nascono, quindi i problemi di tutti i nati prematuri, il problema dell'aborto e il problema del come morire. Quindi accettando il fatto che come esseri umani abbiamo un limite che si riscontra quotidianamente nelle corsie degli ospedali e nell'assistenza in fase professionale, che invece sembra quasi non esistere nella presentazione dell'onnipotenza della tecnologia e della tecnoscienza a livello medico. Partendo da questi due dati, quindi il fatto che esista una tecnoscienza sul fatto che contemporaneamente si appoggia, viene allocata su una biologia che noi conosciamo solo in parte, è nata la problematica del come decidere in medicina dall'alba al tramonto della vita. Poi c'è stata ovviamente la relazione del Cardinal Caffara sulla dignità della persona nel nascere e nel morire, che ha ben delineato quelli che sono i doveri, quindi quando le cure sono proporzionate sul piano etico, quando le cure sono sproporzionate e come comunque questo concetto di cure proporzionate e sproporzionate futili, va inserito all'interno di quello che è la relazione medico-paziente che è alla base, che è una relazione di tipo paritario in cui non esiste un concetto di autodeterminazione come si vuole fare intendere, trasformando in modo utilitaristico l'articolo 32 della Costituzione che non prevedeva sicuramente che uno può fare quello che gli pare della vita che è stata data. La struttura giuridica italiana sia di protezione del concetto di persona che è stata introdotta nella Costituzione e che quindi non è compito della magistratura mettersi a legiferare, ma è compito del Parlamento, anche se il Parlamento è oggettivamente in ritardo, come ha fatto osservare il professor Eusebi, in cui nel dato contingente, che può essere usato anche in modo ideologico del caso Inglaro, di fatto c'è uno spazio per il Governo e per il Parlamento, nei loro ruoli rispettivi, di esecutiva e di legislatore, di riempire questo buco che è stato aperto e creato probabilmente, non senza volontà, da parte di certa parte di magistratura.